E cosa possiamo dire di questo Back 4 Blood? A parte che forse è il miglior gioco uscito nel 2021, non intendo da un punto di vista di gameplay, perché il gameplay è una cosa estremamente soggettiva. Intendo dal punto di vista del rapporto costo del videogioco e prestazioni che potete ricavare da questo videogioco su PC, ovviamente. Ma prima di andare al vivo del video vi lascio lo sponsor di oggi, che è pcgaming.it. Il sito dal quale ricavare tutte le vostre informazioni per quanto riguarda l'ambito tech e l'ambito dei videogiochi. Sempre aggiornato, all'ultimo trend, sempre bello graficamente, scorrevole da leggere. E un portale che io vi consiglio senza il minimo dubbio. Quindi tutti i link sono in descrizione, andate a dargli un'occhiata, sicuramente non rimarrete delusi. Devo essere sincero, credevo che Back 4 Blood sarebbe stato un'altra copia molto molto brutta di Dead by Daylight, sinceramente parlando, con fasi sparatutto. Beh, così non è stato. Mi sono praticamente evitato, spoiler, non ho guardato la beta, ho visto, ho letto varie recensioni, vari pensieri così in giro per l'internet, ma dato che il gioco è gratis sul Game Pass di Microsoft, e io vi consiglio di andare a scaricarlo lì perché lì il gioco acquista ancora molto più valore rispetto all'acquisto vero e proprio del prodotto, quando l'ho scaricato praticamente mi si è aperto un mondo. Nel senso che per quanto sia un cooperativo in squadre da quattro contro tantissimi zombie, cioè in pratica dobbiamo fare delle cose, e ci sono degli zombie che ci vengono contro e cercano di mangiarci, ha delle prestazioni assurde che non mi immaginavo, sebbene la mia build sia molto più che performante, cioè stiamo parlando di un Ryzen 9 5900X, un RTX 3080, 32GB di RAM, il gioco comunque è installato su un SSD, quindi i tempi di caricamento sono molto veloci, non mi aspettavo che in 4K, tutto ultra, preset ultra, il gioco andasse molto al di sopra dei 60 frame al secondo. Voi direte, G, cavolo, è normale, hai una build della Madonna, è normale che il gioco vada così bene. Ragazzi, se il gioco con la mia build riesce ad andare a circa 90-100 frame al secondo in 4K, tutto a ultra, significa che voi probabilmente con una 2080 in 4K, magari a dettagli medi o dettagli bassi, riuscite comunque a stare sui 60 frame al secondo in 4K. Ma la cosa che a me piace davvero tanto di questo gioco non è nemmeno il 4K, è l'ultra wide QHD, perché su uno schermo 21.9 avete molta più porzione di campo che riuscite a vedere, cioè c'è molta più parte del livello che riuscite a vedere. Il framerate, sempre con il preset ultra, riesce a volte a toccare anche i 200 frame al secondo e vi posso assicurare che non è brutto da vedere, nel senso, stiamo parlando di una grafica che è un misto, una via di mezzo diciamo, tra la grafica realistica e la grafica fumettistica fondamentalmente, perché non possiamo parlare di grafica fotorealistica. Per me la grafica fotorealistica è più o meno quella che c'è nel multiplayer di Call of Duty Modern Warfare. Quella è molto fotorealistica, non a livello estremo, ma comunque è realistica. Una grafica cartunesca è quella di Fortnite. Qui praticamente tendiamo più alla realisticità che alla grafica cartunesca, ma è comunque molto molto piacevole da vedere. Anche andando a giocare tra i vari preset, il dettaglio grafico non cambia più di tanto. E vi posso dire che in 2K full HD era inutile testarlo, perché saremmo andati davvero a oltre 250 frame al secondo fissi, forse saremmo andati anche a 300, perché il gioco tutto viene cappato a 360 fps, quindi con una build improntata per il gioco, che ne so, quindi un 11900K con una RTX 3090, riuscite secondo me tranquillamente in full HD ad arrivare a 360 frame al secondo, magari anche riuscire a mantenere quei 360 frame al secondo, perché probabilmente andate anche un pochettino al di sopra. Vi posso assicurare che il gioco è divertente, sì, se è giocato in squad, ed è estremamente bello. Non ci sono impuntamenti, non ci sono cali drastici di framerate, non c'è stuttering, perché è un gioco diviso per aree, quindi non è il classico battle royale esplorativo in cui vi buttano in una mappa assurda, in 150 persone dovete girare, cioè avete i cali di prestazioni. È un gioco fatto veramente come si deve, dal punto di vista prestazionale. A schermo avete visto tutti i consumi e tutte le prestazioni, quindi non so che dire, raga. Sono rimasto estremamente, estremamente colpito in positivo. Probabilmente in questo momento io sto streammando qualcosina sul mio canale Viola, perché oggi vorrei fare un esperimento con la mia 3080 cercando di non far saltare tutto in area, quindi venite a dirmi cosa ne pensate di questa recensione e cosa ne pensate del gioco a queste risoluzioni. Io sono rimasto estremamente colpito, ma l'avete già capito prima, e nulla, fatemi sapere la vostra. Vi ricordo comunque di mettere un mi piace, iscrivervi al canale, accendere la campanella per rimanere sempre aggiornati sui video del punto di G, e ci vediamo un prossimo video, sempre qui sul punto di G, sempre qui col vostro G, probabilmente si parlerà di grafica. Ciao ciao belli!